Aspetta, ah, ah, ha appizzicato, ah, che schifo, che schifo, scappiamo, no, ah, è schifo, ok, allora, secondo me dobbiamo andare di qua all'inizio dove sei illuminato di rosso, però, esatto, andiamo, allora, il gioco si chiama Four Warned, che dovrebbe voler dire, io t'ho avvisato, poi mi accade te, perché mi sembra quello, ma che musica c'è, aspettate un attimo, no, no, ma c'è una musica che fa un po', comunque non c'è spazio per tutti, perché dà quattro, eh, Ah, qui si torna indietro, eh, attenzione, no, quello è dove si mettono, dobbiamo entrare nel sito archeologico, ragazzi, venite con me, vi guido io Allora, io da quanto ho capito ci sono anche i tool, come al solito, ma noi siamo poveri Allora, imparate a riconoscere me, sono questo Ok, va bene, noi seguiamo a te Ok, andiamo Ma il vostro cosa potrebbe essere? Ah, qui ci dici che ci sono delle belle cose Oh, che belli questi Oh, che i zaini Oh E' uno per uno, una batteria Oh, guardate qua Vi dico io cosa prende Ma non fa un c***o di luce neanche questa, ma come è possibile? No, io prendo tutto, eh Ma zero luce fa Boh, vabbè, allora Eeeh Dimmi cosa prendere No, non si può prendere tutto, ragazzi Eh no, c'erano solo cinque oggetti da poter prendere Allora, io prendo la flashlight Ok Come si butta? Ok, con cui si butta? Si possono prendere anche, tipo, la torcia, quella lì con la fiamma Ok, io prendo Oddio, l'ho accesa! Io ho preso il sismometro Io prendo la bussolina No, non lo voglio il sismometro Io prendo la fotocamera Io ho preso la fotocamera pure Ok Io ho preso il sismometro, raga Ho preso l'acciarino Ho scritto qualcosa? Allora, qui abbiamo gli obiettivi, eh Oh, aperto, aperto! Vabbè, sì La mia aperta Urca Ma devo venire pure io davvero? Non posso guardarvi da qui? Oh, ma sta parola la possiamo prendere, secondo te? No Non si può, non si può Ragazzi, vede il c***o tutto rosso Vabbè, andiamo Vai, vai, vai Però spegnete le luci che non si vede una mazza già No, non si vede... Ah, oddio! Lion, sei morto? Sei vivo? Boh Mamma mia, che paura Siamo con te, siamo con te Aspetta, aspetta Ma era solo all'inizio Ma cosa è successo? Non è cascato Ma che... Oh, 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 oh No, Lion, è una trappola egiziana Eh, vai tu Ma c'è un serpente, no, raga No, no, no Oh, lì sotto Qualcuno lì sotto? Qualcuno? Un serpente! Oddio 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 Ragazzi Non ci sono Iper ciò Ok, ok Bisogna dargli qualcosa perché è un buono È un buono il serpente Ma non c'è andare, Lion ma sei pazzo Quello di volte Vuole qualcosa pale in sementi Non assalta però Vabbè, andiamo avanti Attenzione Mamma mia Una pressure plate Vai, Chico No Oh, dai Oddio, non è una pressure plate Bene, bene Vieni Degli escrementi Sembrano monete Non li fanno Allora avete risolto la trappola del serpente Non abbiamo fatto nulla Ok ho tirato una leva io Io non sono con voi Ho visto qualcosa Mi sa che questa leva era a tempo Vedi? Questa testa Non è vero La trappola del serpente l'abbiamo vista Possiamo tornare indietro Dai ma questa volta era vero Mi ha sputato C'erano quattro cose Aspettate Lo sei fatto Illuminatemi Non leggo Appena sono entrato nella stanza Il contattore Geiger è impazzito Una scansione veloce ha mostrato radiazioni Vicino al 3.5 Ma abbiamo notato Delle fluttuazioni Torneremo con le nostre suite Azmat Oh Oddio ci sta muovendo Ci sta muovendo qualcosa Laion sta arrivando Credo che dobbiamo tornare indietro Perché non abbiamo Corri 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 Sto arrivando qualcuno Dov'è la scala? Oddio No Laion c'è qualcuno che sta correndo qui La tuta Azmat Sali 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 Ma noi non abbiamo la tuta Azmat Andale andale Che c***o è questo? Ma non c'era nulla raga Ma c'è Laion nessuno C'erano dei passi che ci stavano circondando Rientriamo dai Non ce l'abbiamo la tuta naturalmente Non c'è solo la radiazione No ovviamente no Andiamo Voglio usare la cosa Geiger Però io Ecco Ma non funziona Andiamo eh Scendi scendi Laion c'è qualcuno di vivo Che capisce Non si vede una fava secca Ok Qua è qui Credo di potervi dire Se qualcosa si avvicina a voi Lo sapete? Oh Ho sentito un ululio E vedi che c'è qualcuno? No Non un ulululu Qua Qua si è aperto eh Mi sa No non è vero Ho chiuso Ma qua c'è qualcosa di rosso Non dovresti entrarci Perché ci sei entrato? No cos'è cos'è? No 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 è una porta Mi sa che è chiuso eh Qua è chiuso Andiamo via da qui Andiamo via Ho altre monete Soldi Oh Cosa c'è? Ah ma io posso accendere le torce Vedi guarda Ah che bravo Che bravo Accendile tutte Accendile tutte Così faccio più luce Oh 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 avete raccolto dell'oro eh Ma sei grifato di brutto Quando avevo raccolto l'oro Guarda che veniva da quella là Da dove? Vai Vieni dritto qui Vieni No non ci andiamo Che prego Cico sei in mezzo alle palle No scusa Vai tu Lion Ma il mostro è una mummia? Tipo Sì Ah Ah c'è una mummia La mummia La mummia Alex pissano Pissano Vai bravo bravo Oh Dio vai bravo 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 Va bene Oddio Soffri sì Dove è andata Ce n'è un'altra Ce n'è un'altra Sì Lion il suo cuoricino è giallo Rispetto agli altri che sono Verdi Ok ok c'è un'altra Vai 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 Appiccia le mummia Succhiate Faraoni Ok andiamo avanti Andiamo avanti Ce ne sono altre mi sape Occhio C'è una torcia Non vi preoccupate Comunque guardate qua Questi faraoni adoravano il piede Vedete questo è un piede gigante Come stregato Brutto pervertito Schifoso Non è vero Raga fate le foto Mi raccomando E fate le foto a queste Questo qua Non so chi ne ha fotografico Oh aspetta Oh bello Qualcuno ha fatto la foto Del sedere di un altro Ah dietro Dietro Che c'è È quello lì Guarda dietro lì Non vedo Oh No no mi sto cadendo sotto Avete fatto Fate la foto al faraone Lì nella tombra Si è riaperto Lo riapro Vai faglia la foto L'ho fatta Ok Dagli fuoco Dagli fuoco No la piccola La piccola La piccola Raga ma avete visto Altri serpenti No Anna Posso scendere Boh prova Prova La piccola qua Alex C'è una Vado 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 No guardate la scimmia Ma c'è il pisello Oh Guardate la scimmia Si arrabbiata Raga Eh Dove siete Anna Sei stupida Non andare di là Torniamo a prendere Anna Aspettate Sono all'inizio Cretino Mannaggia te Vieni vieni Dietro di te Ma lì c'era del fuoco Vieni qua Cos'era Basta che non vi perdete Anna Ha arrabbiato Qualche cosa Molesta Venite Che cos'era Venite Stati attenti A dove mettete i piedi Cos'è Oh Madonna Un pietrone Mi sono scaccato Petronio Oddio Che paura No ma fa un jump Scherzo ti schiaccia Fate anche la foto di questo Ok perfetto Torniamo indietro Cosa c'è qua sotto Il vuoto Attenzione a Petronio Eh Qua Niente 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 C'è niente Ti insicuri Cos'hai visto Cos'hai da dire C'è un serpente gigantesco C'è un serpente gigantesco Ve lo giuro Dove 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 Ma che non è vero Ma non è vero Ma non è che è tipo un fumo Ma no ma vedi che c'è la mummia Ammazzata Apiccia la mummia Via via Comunque ve lo giuro che c'era il serpente Oh si è un cazzaro No no È un basilisco pazzo È un basilisco pazzo È un basilisco pazzo Anche a questo simbolo È uguale alle altre queste È uguale Eh l'ho visto L'ho visto È un biscione No l'ho visto No ragazzi c'è un biscione Io non le vado eh Allora se lo vedete appicciatelo Appiccia di brutto Però Alex può appicciarlo Ragazzi ma veramente c'è un serpente È gigantesco Non è così grande No no per favore vi prego Lo sapete col terrore dei serpenti Ma sono molto belli Ma che cavolo dici Sono delle bestie infami Sono affascinanti Andiamo avanti Dai zitto Vabbè sì quello che ti pare Ma a me fanno schifo Pau Aspetta Ah ho appiccicato Ah ma che schifo Che schifo Scappiamo No Ah è schifo Ok Allora Secondo me dobbiamo andare Di qua all'inizio Dove sei illuminato di rosso Esatto andiamo Non si vede una mazza di sto gioco Ah sì E voi chat Voi vedete molto meglio Grazie ai miei filtri post produzione epici Ma noi non vediamo Un cacchio È nulla qui Dobbiamo tornare indietro Oh perché sei entrato lì dentro Ma c'è una via che non ci siamo andati Oh Cos'è chi è A destra Andiamo a destra A destra A destra Qua a destra Non ci siamo andati Qua Sì Ok appiccia 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 Ok di qua Andiamo prima Qua c'è un dovinello Attenzione una leva Una leva Oddio mi sa che sto tirando una leva a caso Eh mi sa di sì Ah vabbè forse era solo una Era solo una Eh Un obelisco Oh Fate una foto Fate una foto Non ho più foto Qua è grande Eh Aia Cos'è caduto Mi ha mosso qualcosa Un serpente C'era un serpente Allora andiamo prima in un'altra via Tipo qua Vai vai tu Appiccia Vabbè C'è appiccia tutto Ma no C'è qualcosa di illuminato Ah foto alleggera C'è qualcosa di illuminato E però c'è qualcosa di blu Radioattivo No 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 Questo è un artefatto L'ho preso Aspetta Devo analizzare la conta mia L'ho preso Attenzione un sarcofago Qui Bambino escluso Come ci si sente Eh Non lo so Però fa molta paura You Unlucky Ma c'è qualcuno che sta facendo goccionare qualcosa Eh Che rumore Però eh Andiamo qui Ma c'è da appicciare eh Eh ho visto il piccione lì Ma non è venuto Meno male Questo fate una Ah ma qui vedi Questo è un incavo Bisogna mettere qualcosa qui No questo è tipo sigillato Credo Dobbiamo togliere se sbaglio Attenzione Uh cos'è qua Ah Dio C'è un enigma Eh 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 Ha letto quello che c'è scritto Sei scemo Cos'hai evocato Ah Oh Incorrect No Ci ha chiuso dentro No Chi ha toccato Sono stato io No 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 Ma scavo via Scavo fuori 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 No è chiuso Ha detto che ha sigillato Non è vero Serpente Non è vero Non corri Corriamo 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 Non ce ne possiamo andare No 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 C'è il biscione Riprovo riprovo Venite venite Lo cambio Ok E come si fa La toss Oh 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 Si è manifestato fisicamente Ambizione Credo che il Mejai Sia tipo il faraone C'è non lo so esattamente Però credo sia una creatura Oh Cristian Oh Oh Oddio Respingilo Laio non si fa Ti piglia Laio non questo è fulpo Bravi bravi Eroici Chi ha avuto Oh mio dio Oh mio dio No No Ci avrà tutti Chico Ci avrà tutti Find the blue lever The blue lever Dov'è la blue lever Tutti Era di qua La blue lever Questa è the red lever E vabbè mi faccio avere Cosa devo fare Sì fatti avere Fatti avere Dammi retta Perché qua c'è un'altra roba da fare Vieni vieni Che brutto uomo Che era Era proprio un brutto uomo Fatti avere Fatti avere È potente Scegli il tuo percorso Per il post vita Level 1 Allora puoi Aiutare i sopravvissuti O cacciare i sopravvissuti Eh ma noi ormai abbiamo Siamo morti tutti Oh per la prossima volta Ce lo ricordiamo Perseguitiamo Chi è ancora vivo Allora non so cosa ne penso A riguardo di questo videogioco Sono un po' dubitabondo Cosa ne hai detto Meglio di ieri Meglio di quello di ieri Molto meglio Pieno di misteri Per oggi Vi auguro buonanotte E a domani Lion out Grazie a tutti Grazie a tutti